Alberi ricoperti dall'abbraccio di grandi coperti e dalle luminescenze di migliaia di paellette argento, un luogo che è scaldato dai ricordi e che invita a dimenticare almeno per un attimo le angosce e le tensioni per immergersi in quel calore che soltanto le emozioni possono offrire. Dall'8 maggio i giardini della Rocca si aggiungono a Mondolfo gallerie senza soffitto, l'esposizione d'arte per le vie di uno dei borghi più belli d'Italia, promossa da Proarte Mondolfo guidata da Filippo Sorcinelli col patrocino del comune. Arte e natura sono connesse in questa nuova installazione con un lavoro fatto di oltre 5.000 metri di lana e 23 vestiti di diametro che va dai 50 centimetri ai 2 metri. La natura si veste di colori. Quest'arte è nota come yarnbombi ma anche come graffiti di lana è già presente in tantissimi angoli del mondo e con orgoglio la portiamo nel nostro comune. È stato un lavoro impegnativo come peraltro lo era stato quello dell'albero di Natale all'uncinetto che è durato circa tre mesi. Si vuol dare l'idea di una natura che si ricopre di abbracci colorati e quindi dare un senso di calore e di allegria a questo luogo. A questa iniziativa faranno seguito numerosi altri interventi permanenti per arricchire, promuovere e condividere l'arte e la bellezza. Veicoli di forte richiamo per il turismo, gli studenti, gli artisti stessi ma anche per i cittadini, primi fruitori e collaboratori sociali del territorio. Ci siamo adoperati con i soldi risparmiati grazie alla decurtazione di una parte delle indenità di assessori e sindaco, abbiamo realizzato dei nuovi giochi all'interno del parco stesso e nello stesso tempo con un progetto promosso dalla Proloquo Tre Colli e coordinato da PAM all'interno di Galleria Senza soffitto è stato arredato con della lana e con della stoffa glitterata questo bellissimo parco. Ci apprestiamo oggi a aprire questa installazione che è una sorta di filo conduttore proprio come il filo di lana, tesse e la tela, rappresenta la nostra collettività che senza la condivisione degli intenti, senza l'abbraccio proprio vero e fecondo tra le associazioni non si può promuovere. Quindi sono ben felice di accogliere questa grande installazione che fa da cappello a tutte le installazioni che verranno e verranno promosse nel corso dei mesi. Come amministrazione ringraziamo tutte quelle associazioni del territorio che con grande passione con tanti volontari si impegnano per rendere sempre più bello e accogliente il nostro borgo.